Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di oggi domenica 17 settembre. Adesso in pochi minuti vi racconto quello che è successo sui giornali, anche perché i giornali oggi potete benissimo e tranquillamente dimenticarveli a casa, comprateli perché mi pagate lo stipendio, diciamo così, ma per il resto non c'è nulla. Pensate un po' che tutti quanti i giornali oggi titolano sul fatto che Di Maio è diventato il leader del Movimento 5 Stelle, il leader politico e il leader anche perché farà il Presidente del Consiglio. Informazione che potevamo fare in tre righe, ma di interesse pari a zero, fico e contrario, qualcun altro contrario, insomma del tutto inutile. Vediamo quale altre cose possono esserci divertenti di oggi. Innanzitutto certamente c'è la questione del fare Consip, che è anche quella una rottura di scatole per gli addetti ai lavori che in metà basta. Cosa succede sulla questione Consip? E' che i magistrati Woodcock e i suoi carabinieri all'opera, quelli del noi, del capitano ultimo, hanno fatto un sacco di pasticci, hanno fatto casini. Ed è il tipico modus operandi di Woodcock. Allora qui si formano due partiti. Il partito di quelli che dice, per esempio, Mario Calabresi di Repubblica, che è il complotto, il grave attentato alla Costituzione, il carabiniere che cambia le carte in tavola. In effetti un carabiniere che cambia le intercettazioni è una cosa di una gravità incredibile. Ma è grave se tocca il Presidente del Consiglio, anche se tocca, come mi è successo a me, Nicola Porro, o tocca tantissimi indagati da Woodcock, che poi sono stati assolti, archiviati, inchieste che poi sono andate a finire da altre parti. Insomma, questo è un po' il filo rosso. Quindi entrare nel merito di quanto casino ha fatto Woodcock e dall'altra politicamente Renzi e i suoi che azzannano l'inchiesta in cui ci sono stati passaggi raccontati, guarda che ti stanno intercettando, c'è qualche cosa di opaco in questa inchiesta. Ovviamente c'è, come sempre, in tutte quante le questioni che riguardano i poteri. Sallusti e Travaglio hanno una posizione simile su questo. Sallusti sul fondo del giornale dice che c'è stato sicuramente un complotto e c'è stato un tentativo di abbattere Renzi per via giudiziaria, ma la sinistra è inutile che facesse la verginella perché gli stessi magistrati li ha usati contro Berlusconi per tutta la sua vita. Stessa identica cosa la dice il Tempo, perché il Tempo fa anche un'operazione molto divertente, cioè riprende il fondo di ieri che avevo citato di Mauro, in cui dice disarcionare un presidente del Consiglio, scrive Mauro, ieri su Repubblica con la manipolazione delle intercettazioni sconvolgenti. Mauro non ti sconvolgere, dice giustamente oggi chiocci sul tempo, è quello che avete fatto voi nei confronti di Berlusconi negli ultimi vent'anni. Insomma, non fare tanto la verginella. Invece Travaglio sul fatto dice un'altra cosa, dice Renzi come il Cavaliere, come la Lega, come Craxi, gridano il complotto, invece l'inchiesta è fortissima. Insomma, è molto interessante oggi la stampa che ve lo segnalo, perché voi dovete sapere che le cooperative hanno un cosiddetto prestito sociale, cioè i soci delle cooperative possono prestare dei soldi alle cooperative come se le cooperative fossero vere e proprie banche. Oggi scopriamo che secondo le cooperative questo non è risparmio, in realtà non prendiamoci per il culo, è risparmio, va bene, è risparmio, e la stampa dice attenzione perché su questi 8,8 miliardi di prestiti sociali non sappiamo quanto le cooperative siano in grado di restituire questi soldi e devo dire che me ne occupai a Matrix l'anno scorso, effettivamente alcune cooperative del nord-est sono fallite proprio perché non sono riuscite a restituire i soldi. Certo che se tutti 8,8 miliardi andassero oggi a chiedere i soldi indietro alle cooperative sarebbe un gran casino e salterebbero, ma comunque questi soldi raccolti alle cooperative sono e rappresentano un gran problema. Ma attenzione dunque ai soldi prestati alle cooperative, non vi fidate delle cooperative nonostante quello che vi raccontano, perché non fanno le banche e delle stesse banche non ci si può fidare a delle cooperative ancora di meno nei prestiti sociali. Chiaro anche perché i criteri con cui utilizzano i loro soldi non sono del tutto trasparenti. Stampa di oggi. Due ultime cose. Un'altra cosa che per me non è trasparente è questa cosa di Ryanair. Io quando leggo che Ryanair cancella decine di voli colpa delle ferie dei piloti mi viene un po' il sangue al cervello, perché se questo titolo l'avessimo fatto per Alitalia avremmo fatto la rivoluzione, avremmo detto i soliti italiani, la solita ritalità del cavolo, i soliti romani, il solito intervento della politica. Adesso ragazzi voi mi dovete spiegare, ma può un'azienda che ha fatto 100 milioni di viaggi di persone trasportate a un miliardo e tre di utili, a 40737. Può dirmi che saltano 50-60 voli al giorno per i prossimi mesi perché non ha calcolato le ferie dei suoi piloti? E c'è qualcosa che non funziona. C'è qualche cosa da prenderli a cazzotti. Ma a cazzotti veri? Perché a me va tutto bene, ma siccome gli aeroporti italiani pagano Ryanair perché atterri e questo porta l'indotto del turismo, quello che volete, insomma un po' paracuristi irlandesi, forse lo sono. Già in Irlanda hanno sede tutte quante le società, diciamo tecnologiche che non pagano tasse nel resto dell'Europa. Adesso forse stiamo un pochino esagerando. Stato canaglia? No, non so se definirlo tale. Però l'idea che l'irlandese Ryanair si accorge all'ultimo delle ferie dei suoi piloti e quindi cancella i voli in questa maniera mettendo nel disagio complessivo i suoi utenti, beh c'è una risposta, cioè vote with the fit, non volare con Ryanair e con alternative. Ma se Ryanair le alternative le ha fatte tutte fuori e una di queste, cioè l'Italia, se le vuole comprare, rendetevi conto della situazione in cui ci troviamo. Insomma, sempre dalla parte dei consumatori e Ryanair in questo caso mi sembra molto poco dalla parte dei consumatori, ma soprattutto è molto ridicolo il modo in cui Ryanair ci spiega perché ha cancellato i voli, perché non ha calcolato le ferie dei piloti. Io la trovo una cosa che non sta né in cielo né in terra. Allora scusatemi, non esso in giornale perché non abbiamo calcolato le ferie dei redattori. Oddio, è una roba che non lo so, ma fa ridere. Ma perché qualcuno non alza il dito e dice scusate, ma si possono non calcolare le ferie dei propri dipendenti? Cioè esiste una società e adesso dicono richiamano in servizio quelli che non volano da... Ma tu richiami in servizio uno che non vola da due anni? Da un anno che magari si è bevuto il cervello? Vabbè, insomma, adesso va benissimo rompere le balle alla nostra l'Italia, va benissimo rompere le balle alla Old Economy, però questi ogni tanto esagiano. De Luca è l'ultima cosa che mi diverte. Oggi lo tiene in considerazione solo De Marco, ex direttore del Corriere del Mezzogiorno, che dice che è l'unico paese al mondo in cui ricorda quello che ha detto ieri De Luca, perché De Luca invece di chiedere scusa, ieri sulla pagina di Facebook, sapete benissimo cos'è, De Luca abita a Salerno, nella sua casa è senso unico, tranne che per la polizia, cioè per se stesso. Quindi lui per evitare code, per guadagnare 5 minuti per comprare fuori, come dice Luca, fuori, fuori, quando è fuori dalla casa, per ritornare a casa, De Luca si è messo questo senso unico per tutti i cristiani, tranne per lui, perché c'è un vigile urbano, pare che guida anche questo in certo la sua auto, e quindi essendo il vigile urbano una forza dell'ordine, può andare contromano in quella strada, perché solo le forze dell'ordine possono andare contromano. Questo è quello che è successo. Ieri ha beccato un motorino con questo contramano, che tra l'altro è quello di Mosinese, andava pure piano e l'ha buttato a terra, invece di chiedere scusa sulla pagina di Facebook, dice siamo l'unico paese al mondo in cui un incidente banale può diventare uno sciacallaggio politico. A De Luca, sciacallaggio politico, mi sembri Rula, Rula, uomo bianco contro tutti, anzi no, tutti gli uomini bianchi contro De Luca, non tutti gli uomini bianchi contro Luca, non è sciacallaggio politico, guardati allo specchio, fatti una domanda e datti una risposta, diresti tu a Lira TV. Tu hai una casa, hai il tuo autista, quella casa è per tutti in senso unico, tranne che per te è per l'autista, dici che è delle forze dell'ordine, come dice oggi De Marco, l'autista non è più una forza dell'ordine perché è un vigile urbano che adesso sta distaccato alla regione, il tuo autista fa quel contromano, metti una persona in motorino, la investi e invece di chiedere scusa persi allo sciacallaggio politico. De Luca, la gente come te, la gente come te è di un'arroganza insopportabile, io mi ricordo uno come te, che poi dopo una partita di tutti gli inferni, che si chiamava Del Turco, me lo ricordo, sindacalista della Cisla, all'epoca che girava con la scorta e che faceva il fenomeno a Roma, io mi ricordo che ero in motorino e lo mandai a quel paese, lui gli diceva va a quel paese perché mi stava mettendo sotto il motorino, ancora me lo ricordo, Del Turco è sceso e mi voleva menare, insieme alla scorta che mi voleva menare, ecco questi arroganti, poi Del Turco è finito in galera, è finito in un tritacarne giudiziario da cui è anche uscito, però questi politici che pensano di poter fare come cacchio gli pare, prima o poi una risposta ce l'avranno, che sia poi la risposta del Movimento 5 Stelle, mi spiace molto per il nostro paese, ma se la sono meritata, diciamo così, De Luca e compagnia cantante, non si va contro mano con il proprio bigio urbano. Ciao, buona domenica.